Noi siamo pronti perché come abbiamo già anticipato da un po' di tempo abbiamo trovato del personale medico volontario, degli infermieri, quindi diciamo siamo pronti. Se la regione è disponibile a concedere i tamponi e i dpi, noi siamo pronti per partire da metà della prossima settimana, quindi ci auguriamo in un riscontro positivo. La nostra proposta è questa, di farla all'interno degli istituti scolastici, allestire diversi presidi, quello del campo scolastico, Villa Caprile, Mengaroni per la parte degli istituti scolastici che fanno capo Centromare. Speriamo che la regione sia dalla nostra parte perché l'opportunità è importante, interessante, ritengo soprattutto che da questo punto di vista sia importante fare squadra, quindi confido in una risposta positiva da parte dell'assessore alla sanità e da parte di Acquaroli. Grazie.